toh guarda qui sta mi fa comodo ora che mare non mi fa pensare che mi viene in mente di quell'amico mio che vuole sempre andare in vacanza questi posti di mare meravigliosi allora l'ho incontrato e ho detto mi dici stanno andando in vacanza per carità ha detto non mi parlare di vacanze ma come va in questi posti belli ti ho detto fammi la cortesia non mi parlare di vacanze ma perché cosa mi è successo allora tre anni fa sono andato in vacanza in spagna mi muoio è rimasta incinta l'anno scorso sono andato in vacanza in grecia e mi muoio è rimasta incinta st'estate sono andato in vacanza in croazia mi muoio è rimasta incinta adesso però trovate il sistema ah si cosa fai la porto in vacanza insieme a me grazie a tutti grazie a tutti